Musica Io le sardine sono sincero, non le concepisco, le definisco così perché nascono come un proseguio del Movimento 5 Stelle. Le piazze sono sempre state nostre, che se ne dica che vengono in giro le sardine o le cose, non c'entrano niente con noi, perché se le sardine avevano qualcosa da dimostrare sarebbero dovute scendere insieme a noi in piazza. Se vogliono scendere in piazza, che scendano in piazza con noi? Sicuro, penso che abbiano più l'affinità verso i 5 Stelle che verso, come hanno dimostrato, di essere contro un centro-destra. Perciò spiegate il vostro programma politico, sociale e economico perché è di questo che vi viene a parlare. Siamo sardine! Siamo sardine! Siamo sardine! Siamo sardine! E non sardine! C'era già una forza nuova, no? Che era questa, perché non si sono uniti? È bellissimo che i giovani scendano in piazza. Allora, delle sardine che saranno domani in questa piazza, voi che cosa pensate? Guarda, le sardine corrispondono a una vecchia vignetta, non so se ricordate, c'è il grosso che si mangia al piccolo, però se le sardine si uniscono diventano un sardone che si mangia, diciamo, il pesce grosso. Questo è lo spirito. Finché rimane questo lo spirito, che è uniti, si vince, mi va bene. A questo punto io dico che è meglio che vengano con i 5 Stelle. Dovrebbero essere qui anche loro oggi. Abbiamo idee diverse, però magari abbiamo qualche obiettivo in comune, quindi potrebbe essere interessante avere degli obiettivi per cui lottare insieme, come questo. Grazie.